Benfante 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 Non mi resta da mo' son conoscente, sta pagata in tuo quartiere non so niente, pure se sto stare da non quente, ma tutto questo non va di niente. La giù from me sa figlia mia mamma, dava la vita non mi importe più, credetemi sta pagata verità, son me non c'è andato a bacia mamma, mamma. Tutti repudie, voci confidenziali di quartiere confermano di averti visto. E poi mi provate in libertà, che ora è rimanente a quattro mure, per un fame quartiere, no, pregati e no. Non date rette e chiacchiere da gente, il suo fanno solamente per parlare, ma il coppio corriere faccio scaricando, fatiche tutte i giorni senza me fermare. Sono stata carcerata e chiacchiere da colpe in venti, da colpe in venti, da colpe in venti, ma l'ho appena io l'ho già papata, e mo' non capisco che si è davvero da fare. Non mi resta da mo' son me non c'ente, sta pagata in tuo quartiere, non so niente, pure se sto stato da nel venti, ma tutto chiesto non vado niente. L'agio per un mese a figli e mia mamma, la malarita non mi importa più, credetemi sta ma che è vero da ma, son me non c'ente, non ma c'è ma mamma. A nome del popolo italiano, morte da Sisi di Milano, visti gli articoli 533 e 535, codice e procedura penale 2932, dichiara peffante Antomino, colpevole dei reati a lui iscritti, alla pena dell'ergatolo e anni tre gli solamente. L'agio per un mese a figli e mia mamma, la malarita non mi importa più, credetemi sta ma che è vero da ma, son me non c'ente, non ma c'è ma papà. E questa è la storia, non voglio nemmi sapere, che dopo tanti anni in carcere cercava l'integrazione. L'agio per un mese a figli e mia mamma, la malarita non mi importa più, credetemi sta ma che è vero da ma, son me non c'ente, non c'ente, non c'ente, non c'ente, non c'ente, non c'ente. Grazie. Grazie.